la regina elisabetta d'inghilterra pensate che non è la persona più ricca del nostro pianeta infatti secondo le classifiche di forbes la donna in questione la pongono molto più in basso rispetto a ciò che effettivamente si crede sul suo conto molto infatti pensate che sostengono serenamente e diffusamente che la regina elisabetta sia la persona più ricca del pianeta ebbene non è così non è così che stanno le cose lo dico tranquillamente e serenamente infatti pensate che secondo forbes tra i più ricchi del nostro pianeta la terra ci sarebbe il patron di amazon e ci sarebbe anche l'inventore della microsoft ossia bill gates grazie a tutti un cordiale salutone da leandro arresto narratore italiano